La visione di Tundalo Accuratamente suddiviso con diverse pene per i vari peccati Lo stesso Tundalo deve subire alcune punizioni In particolare egli può vedere 8 luoghi di tormento nell'inferno superiore Ma queste pene sono temporanee e quindi questo inferno superiore È in realtà una sorta di purgatorio Dove si trovano anime ancora non definitivamente dannate Che saranno giudicate nel giorno del giudizio Solo il pozzo dell'inferno dove si trova Lucifero E sede di pene eterne per i peccatori Che hanno disperato nella misericordia di Dio e non hanno creduto in Lui In seguito Tundalo si trova in una zona più luminosa e tranquilla Dove davanti a un grande muro sono le anime dei non troppo cattivi Che soffrono fame e sete penitenziali E poi più avanti incontra in un luogo piacevole i non troppo buoni Che sono già passati attraverso le pene purificatorie Il paradiso presenta invece la forma di ampi campi separati da mura di metalli e pietre preziose Vi si possono riconoscere tre aree Una prima per i buoni cristiani coniugati Una seconda più elevata per i casti I martiri e i monaci E una terza che ospita i santi e le nove schiere angeliche Tundalo intrattiene dialoghi continui con l'angelo E guida intorno a questioni dottrinali e alla natura dei luoghi visitati Dove incontra anche una serie di personaggi da Lui conosciuti in vita All'interno dello schema noto due grandi visioni della fine dell'ultimo decennio del secolo Mostrano l'attenzione sempre maggiore nei confronti dei luoghi di penna temporanea Già evidente nella visione di Tundalo Sia la visione di Godescalco di aria tedesca Che la visione di un monaco di Ainsham di aria inglese Presentano infatti la descrizione solo delle pene purgatorie Del passaggio delle anime purgate verso il paradiso terrestre Dove attendono di essere ammessa la beatitudine Mentre manca la descrizione sia dell'inferno inferiore E sia del paradiso celeste Sempre più accentuata appare poi l'attenzione per i casi individuali delle singole anime Presentate nei loro aspetti biografici in funzione esemplare Il ciclo delle visioni culmine si esaurisce con la visione di Turchillo Di aria inglese risalente ai primi anni del XIII secolo Oltre a elementi già noti presenta un'insistenza particolare nei confronti della necessità Che i viventi aiutino attraverso messe e suffragi Le anime sottoposte alle pene purgatorie Quelle purgate ma ancora in attesa di essere ammesse al paradiso Un elemento nuovo è la messa in scena del giudizio delle anime attraverso il peso Ma la vera novità è la rappresentazione di un inedito teatro infernale In prossimità dell'inferno inferiore si trova infatti un grande teatro nel quale viene condotto anche Turchillo Qui hanno luogo dei ludi teatrali organizzati dai diavoli Le anime dei peccatori sono costrette a mettere in scena una rappresentazione dei loro peccati E poi a subire pubblicamente terribili punizioni corrispondenti ai peccati Il pubblico dello spettacolo è formato da diavoli che applaudono divertiti E dagli altri dannati seduti su sedini incandescenti Mi sembra qui di avere praticamente illustrato attraverso questa lettura La città terrena di Agostino